Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno a tutte le amiche e a tutti gli amici di Social Podcasting. Io sono Alessandra Corbetta e oggi per Alma Poesia vi leggo un testo tratto dalla nuovissima raccolta di Imperatrice Bruno dal titolo Volontà Nobili, uscita per nulla di e proprio nel 2022. In quel momento ho l'età dell'erba e la mia coscia tremante indica il primo movimento della mano. Caro Dio, nel cuore del mio fiore c'è un uomo senza il marchio della morte. Social Podcasting. Your Digital Friends.